In tantissimi mi avete taggato sotto questi video con i disegni da colorare, infatti oggi andremo a provare Crea Art di Ravensburger. Ringrazio tantissimo Ufficio Discount per avermi mandato questo regalo, adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro. All'interno troviamo i barattolini con le tempere, due tavolozze, un pennellino, la cornice, la tela con il disegno e il disegno cartaceo. Come prima cosa vado a togliere tutti questi pezzettini dalla tavolozza. Una volta finito ci vado ad inserire tutti i barattolini con i colori. Ne avanza uno però, che peccato, voglio iniziare a colorare da rosa. Il colore però per il caldo che fa si è un po' asciugato, quindi aggiungo un po' d'acqua e vado a mischiare. Adesso è pronto, inizio a colorare la prima nuvoletta. Devo dire che è molto rilassante, se proprio devo trovargli un difetto forse il pennello è troppo grande per fare i dettagli. Una volta finito passo al marrone scuro. Come pensavo forse il pennello è un pelino troppo grande, per fortuna ci sono dei bordi abbastanza spessi che vanno a delimitare tutte le aree. Adesso faccio anche il muso e per oggi ho finito, il resto lo continuerò in live.